Ma l'amore per questo lavoro ci è sempre stato, ci sarà sempre, ma è una collaborazione a volte che fa la differenza, i tuoi collaboratori. Ad esempio io in questi ultimi tre anni ho avuto tante proposte di lavoro da giovani, non è che io li ho cercati, è stato forse il questino, le combinazioni, sono venuto a loro a propormi delle cose e io li ho realizzate, non dimenticato di consultare né mio marito che ha sempre curato il mio lavoro professionale, né con i miei figli che sono grandi, che collaborano con me. Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento, nel nostro salotto digitale, quest'oggi sono davvero molto felice e onorato di avere qui con noi Orietta Berti che è tornata a trovarti, ciao Orietta, come stai? Ciao, grazie, bene e tu? Tutto bene, tutto bene Orietta, questo è un periodo per te davvero molto ricco di appuntamenti, insomma anche ricco di nuovi progetti, a partire dal tuo album La mia vita è un film, 55 anni di musica, quindi più di mezzo secolo addirittura, e poi anche questo nuovo singolo che ti vede protagonista in radio, che è il coraggio di chiamarlo amore, un singolo molto coraggioso anche perché tratta di una tematica insomma abbastanza importante. Il tempo è attuale, sia nel passato, sia nel presente, sia anche nel futuro, perché purtroppo le donne come sai, dai fidanzati, i mariti e i compagni, molto spesso quando non trovano l'uomo giusto sono maltrattate, sono anche distrutte nell'animo, nella mente, quindi io non dico niente di nuovo, soltanto una voce in più per riscenderle, per darle coraggio, per denunciare, perché bisogna denunciare questi uomini, insomma chiamiamoli uomini ecco. In questo caso effettivamente no, l'amore assume questa connotazione anche di grande sofferenza, poi di fatto come accade poi nel album, diciamo l'album è composto da, diciamolo subito, da tutti quanti i tuoi successi, ovviamente è un compendio pieno e poi ci sono anche tanti ebrani inediti che rappresentano, diciamo... Che rappresentano l'amore, l'amore in tante sfaccettature. Ecco, in questo c'è proprio l'amore no, come filo conduttore di tutto. Sì, nell'album, nelle canzoni nuove c'è l'amore con tutte le sue diversità, perché c'è l'amore di un cane verso il padrone, il padrone abbandona il cane, no? Ed è bellissimo, poi c'è l'amore invece eterno, un amore che dura da tanti anni e poi c'è l'amore diciamo a distanza, che quando sei lontano desideri questo amore, quando sei vicino magari ci sono delle diversità che non... e poi c'è questo amore, il coraggio di chiamarlo amore, perché questa donna ha il coraggio di chiamarlo amore che non è amore, è una tragedia, una disperazione. Io volevo chiedere, no, l'amore è un po' fatto parte di questo, di questo fil rouge, di questo tuo album e poi però di fatto traslandolo poi nell'amore anche per il proprio lavoro, per la propria passione, no? Come la vivi tu poi questa passione verso la musica, 55 anni, voglio dire, è più di un secolo, com'è cambiato, se è cambiato qualcosa in te rispetto all'approccio, no? Che hai anche rispetto al palco, rispetto al pubblico che ti ama e ti apprezza? Il pubblico è sempre lo stesso, diciamo che cambia, perché avevo un pubblico giovane e poi dopo è diventato adulto con me, adesso ho ripreso un pubblico giovane, grazie a Manuelito, grazie a Fedes, grazie ad Achille e poi grazie anche, non so, il mio modo di fare le cose, le mie pubblicità, voglio dire, ho fatto tantissime cose dopo il Sanremo del 21 e quindi sono successe tante belle cose, ma l'amore per questo lavoro ci è sempre stato, ci sarà sempre, ma è la collaborazione a volte che fa la differenza, i tuoi collaboratori, ad esempio io in questi ultimi tre anni ho avuto tante proposte di lavoro da giovani e non è che io li ho cercati, è stato forse il questino, le combinazioni, sono venuti a loro a proporre delle cose e io li ho realizzate, non dimenticato di consultare né il mio marito che ha sempre curato il mio lavoro professionale né con i miei figli che sono grandi, che collaborano con me e neanche con il mio manager, Pasquale Mammano. Cioè è una collaborazione che porta dei risultati validi, dico sempre, io bisogna avere più di una persona e avere fiducia in queste persone, perché se tu sei anche un genero da solo, non fai niente, sei anche un cantante con delle buone qualità, con una bella carina alle spalle, ma da solo non puoi fare niente, ci vogliono sempre delle idee nuove e anche delle persone che ti diano l'impulso di fare queste cose qua e quindi sono stata affortunata, forse anche il mio carattere di dare ascolto alle persone, perché bisogna anche saper ascoltare questo lavoro. Ecco, saper ascoltare e saper collaborare, d'altronde poi c'è nel cofanetto, nella mia vita è un film, c'è proprio diciamo una parte che riguarda tutte quante le tue collaborazioni, c'è la collaborazione ovviamente con Le Confendenze, Achille Lauro, lo Stato Sociale, quella con Mangioglio addirittura, poi ce n'è una anche con Faletti, cosa ricordi di lui? Beh, lo ripeto sì, perché è stato il festival più divertente dei miei festival che ho fatto a Sanremo, perché è stato come una vacanza con lui. Lo ricorderò sempre, perché lui mi dice sempre, mi hai dato una mano a farmi conoscere a grosso pubblico e mi ha detto, io non ti ho potuto dare niente perché non siamo neanche andati in finale. Ho detto, no, ma mi hai dato la gioia di passare una settimana con un vero amico e questo non si può cancellare, non si cancellerà mai. Invece il tuo rapporto con Fedez, Achille Lauro, lo Stato Sociale, come sono avvenuti questi incontri? Che poi voglio dire sono anche stati, voglio dire, di punti fondamentali. Sì, molto importanti. Sì, molto importante. Sì, molto importante. Un senso radio, no? Sì, beh, io sono sempre in contatto sia con Fedez che con Achille e un po' meno con Lodo, perché lui è sempre in giro per l'Europa. Adesso è stata una carriera d'attore, quindi. Sì, adesso fa l'attore. E come ti ho ripetuto prima, sono sempre stati in contatto i loro, tutti da loro. Non li ho mai cercati, perché anche perché non avevo la possibilità di cercarli, non avevo un numero di recabito, niente. E quindi forse era il destino di incontrarli così, chiamavano così, insomma. Poi in questa professione c'è sempre una sorpresa. Non lo so perché nella mia carriera sono sempre state tante sorprese e quindi non sono ancora finite le sorprese, perché anche a giugno avrò delle altre sorprese, che adesso non lo posso dire altrimenti, se no che sorprese sarebbero. Ma al di là, diciamo, delle sorprese estive, diciamo così, no? Evidentemente, ecco, il tuo piacere molto ai giovani, no? E anche dato dal fatto che rappresenti un po' una figura quasi di famiglia, te lo dico anche così, un po' da osservatore esterno. E quindi vi vorrebbe da dire, ma poi alla fine Rietta Berti, che tipo di nonna è poi, anche rispettivamente ai tuoi nipoti, e che tipo di rapporto hai con il mondo, diciamo, dei giovani, con quello social, con quello TikTok? No, no sai, sono dei mondi parecchi differenti rispetto a... Oh sì sì, è tutto quello di cose. Una cosa che vi è successo ieri, che all'improvviso il mio sindaco, il mio chiacchiere, il mio medico mi ha detto, vieni qua nella rocca che ci sia una dimostrazione di vini, di tutti i giovani produttori. Nel fetto erano tutti produttori molto giovani, no? E tutti dicono, ma i ragazzi non hanno voglia di fare niente. Invece no, gente che alleva capri, fa i formaggi, gente che sta producendo dei caffè, mischiando tante miscele così, gente che fa il vino, ma tutti i ragazzi giovani. E naturalmente il pubblico era tutto giovane. E non ho avuto una persona di meno di 50 anni che ha fatto la foto con me. E allora vi diceva l'assessore della regione, ma è una cosa strana. Non c'è l'assessore della tua età che ti chiede una foto. Forse non le sanno fare. Ma invece in realtà, perché non tutti i giovani, devo dire che grazie a Emanuele Lito o anche quando faccio gli spettacoli, dei giovani dai 14 ai 20 anni, insomma, per cui piccoli, e a Emanuele Lito. Questo con Fedis è un po' più grande che con Achille. E' bella questa cosa che comunque, no, la tua musica, la tua arte un po' unisce tutte quante le generazioni e le fa dialogare. Questa è una cosa veramente che accade a pochi artisti in Italia. E nel tuo album, poi dopo, diciamo, è anche bello che magari uno più giovane, riascoltando queste canzoni, questi sei cd, poi alla fine riesca magari anche a riscoprire qualcosa del passato e trovare poi dei collegamenti col presente. Io per esempio ho trovato un collegamento particolare con la canzone che è presentata a Sanremo un bel po' di anni fa, ormai, che è futuro, che poi parla, no, di questa guerra, di questo conflitto. O in realtà siamo di nuovo dentro, non è mai passato. Sì, là c'era la guerra fredda, qui c'era la guerra un po' più calda. Però senza la guerra si tratta, no? Cosa ricordi di quel serremo? Insomma, affrontare un testo del genere vuole dire anche molto impegnativo. Sì, per quegli anni sì. Io l'ho trovato molto giusto per quel periodo, no? E infatti Ravira mi chiamò e mi disse ho saputo che hai fatto una canzone così e così che sarebbe chiamarti a Sanremo. E ho detto, beh, vengo volentieri, dato che ho anche la canzone da promuovere e sono andata volentieri, no? Ma però anche lì è stata l'idea di Ravira che aveva scontato il pezzo. Non è che io sono andata là mi raccomando Gianni, fammi andare a Sanremo che ho bisogno di Sanremo. Perché io penso che in questo lavoro non si deve mai chiedere. ma le cose devono essere da ambo le parti. Una richiesta reciproca. È un siglione di venire effettivamente che poi, no, spesso da quella voglia, da quella particolarità nasce qualcosa che uno non si aspettava come un po' tutte quante le collaborazioni che hai anche citato tu prima. Difatti, però, ecco, Rietesi, volevo dire una cosa. C'è stato anche un tuo libro di due anni fa, una geobiografia dove non hai fatto anche il mistero di quei periodi che attraversano tutti quanti gli artisti, no? Un periodo un pochino più buio dato anche un po' da una certa ritrosia da una certa parte di stampa tantissimo tempo fa che ti aveva evidentemente incasellato. quando sono usciti i cantautori, quando sono usciti i cantautori io avevo ancora una punizione internazionale perché ho sempre lavorato con gli stranieri essendo una multinazionale la mia casa. Allora loro mi dissero siccome con l'avvento dei cantautori i cantanti di musica italiana, di musica melodica del bel canto vengono un po' messi in secondo piano. Allora noi ti facciamo fare le canzoni etniche le canzoni folk che sono le origini, no? e abbiamo fatto loro mi hanno messo insieme a dei ricercatori proprio a degli appassionati di musica folk e abbiamo cercato di fare questi tre dischi con 75 brani che fuono un grande successo e quindi io sono anche sopravvissuto all'abito dei cantautori però c'è sempre stato essendo una multinazionale non avevano l'accortezza loro di curare la stampa di curare gli editori di curare gli autori non sono sempre stati un po' distaccati con la posta sotto il naso specialmente quando c'era la direzione dei francesi e allora naturalmente non ero nelle grazie quando si andavano a fare le canzonissime io fossi ancora bambino ma io in sala ricevevo sempre zero voti dai giornalisti invece il pubblico poi mi mandava tante cartoline che io ero sempre sui primi tre e quindi vedi forse era ancora lo simbolo per far mandare le cartoline al pubblico questo non si saprà mai però perché loro non mi votavano? perché volevano fare i piaceri agli artisti delle case geografiche che avevano più considerazione ai loro confronti che non una società internazionale che gli snobbada poi però come si suol dire il tempo è cavaliere se oggi stiamo parlando qui del tuo nuovo progetto del nuovo singolo addirittura di tutto quanto un cofanetto vuol dire che evidentemente il pubblico ha sempre evidentemente il pubblico sovrano ha sempre evidentemente ragione nel preferire o meno un artista io ti volevo fare un'ultima domanda prima di quella nostra diritto parliamo proprio di musica di cambiamento musicale e questo è un voglio dire un periodo in cui ovviamente anche il modo di fluire la musica è molto cambiato si parla di playlist ormai di digitale quindi c'è sia supporto fisico ovviamente per per i più amatori però molta musica soprattutto se i più giovani è fruita in maniera digitale tu come lo vivi questo cambiamento se hai un account anche tu su Spotify sei poi nipoti che hanno così avverto questo mondo ma sì io c'ho il mio sito naturalmente anch'io e quindi e poi come ho detto col mille abbiamo abbiamo sbaragliato tutti per vero era i primi posti è ancora nesso è tra i primi posti e poi guarda cioè ha fatto cosa ha fatto 150 160 milioni di visualizzazioni insomma non sono poche penso che sia un pezzo che rimarrà anche nella storia diciamo del digitale no perché poi c'era anche quella sventagliata un po' che è diventata anche lì sì 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 e adesso vabbè poi dopo l'eco abbiamo fatto tante altre cose perché quando tu hai citato quella biografia che è andata benissimo tra bandiere rosse e acqua santiere che tra l'altro è uno spaccato della nostra Italia di quegli anni quando io ero una bambina autorescente sia politicamente che anche per la società e poi dopo è venuto fuori anche un libro di cucina cioè c'è stata una scia proprio di tante altre cose che ho fatto tutte le pubblicità pensa che le pubblicità mi diceva proprio un pubblicista che di solito la donna anche lì viene che c'è diversità dall'uomo alla donna la donna la prendono massimo 40 anni non di più invece l'uomo lo prendono all'unità finché finché parla insomma vedi che invece sono riuscita a fare delle pubblicità di grande nome anche con la mia età e quindi porto avanti una bandiera femminile che mi dà questo orgoglio guarda un po' mi ricorda ecco qui un modo di pensare quasi l'oltreoceano cioè la possibilità di un artista di andare anche in campi diversi e di essere sempre credibile sempre molto apprezzata dal pubblico in questo tu sicuramente lo sei tantissimo io ringrazio davvero tanto Rietta per essere qui con noi nel nostro salotto digitale come ultima domanda paraprasiamo sempre il titolo del nostro magazine noi come vedi ci chiamiamo domani press e chiediamo al nostro ospite come vede il domani Rietta Berti quali sono le tue speranze le tue paure così una frase della storia sul nostro muro virtuale per tenerti con noi sempre almeno fino alla prossima volta in cui ci incontreremo perché si rincontreremo sicuramente sì sì ma vedrai che la fine di giugno o la fine dell'estate ci rincontreremo ancora perché io ho tanti progetti tante sorprese e quindi le sorprese sono sempre gradevoli no? vero il domani quindi come lo vedo Rietta Berti? è lavorativo sì tutti mi dicono ah ma devi festeggiare il tuo compleanno perché è molto importante beh i compleanni non li ho mai festeggiati tranne che la ricorrenza del mio matrimonio no? perché penso che sia molto più importante vivere una vita insieme a un uomo che il compleanno singolo poi tra l'altro io ho sempre lavorato il primo di giugno però ho detto l'importante è avere sempre delle idee e ringrazio la nuova generazione che mi dà questi consigli che mi propone queste idee e io spero di realizzarle al meglio assolutamente sì assolutamente io ringrazio ancora Rietta Berti presenta qui con noi ricordo a tutti quanti i lettori il suo album Cofanetto la vita è un film 55 anni di genera poi c'è quel più più no? che ricorda un po' il più di famoso di Acquille perché doveva uscire per Sanremo e poi mettete quei due più solo quei due anni di prova quei due anni sì perché poi ero uscito mille e non potevo far uscire anche un Cofanetto e poi dopo è uscito luna piena e quindi abbiamo aspettato il momento giusto che c'era più respiro è questo assolutamente il momento giusto ricordo anche il coraggio di chiamarlo amore ascoltatelo su Spotify in basso trovate anche nel link in descrizione ovviamente la nostra sigla non so solo per digitare solo goodbye se ascoltare anche tu orietta vi ricorda di iscrivervi al canale ti ringrazio ancora tanto e ci vediamo alla prossima alla prossima a presto ciao ciao ehi tu dimmi come stai nel caso non hai 4G wifi sta iniziando una puntata e tu lo sai domani press dimmi che ci stai ehi tu dimmi come stai nel caso non hai 4G wifi l'indirizzo lo conosci puoi cliccarlo dai domani press dimmi se ci stai guardiamo al futuro ma è sicuro parliamo commenti che giuro guardano lontano domani press come video domani ti prego parliamo nel senza stress andiamo a fatti seguiamo i piani quali sono le tue speranze per il futuro spero che ce ne sia uno domani press è il mio canale per aspettare tu iscriviti lo teni ben tirato e lo assicuro domani press domani press domani press domani press